e lo so mo le fa priorito adesso ci vedrai una fontanella e ti lavi le mani non fa niente guarda vieni qua questo è il foglio tuo si ferma qui si ferma che mortita no Samuele amore non possiamo farlo niente che faccio Samuele ha recato perché ha recato per un bacino non 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 no ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.